Il nascere in una famiglia. Io non ho mai avuto una famiglia vera, ma una madre bella e distante, più che una donna, una statua da adorare. Un padre rozzo e diabetico, violento e libertino, e molti fratelli distratti e sbandati. In realtà sono stata sempre una figlia unica e orfana per giunta. Di mia madre mi restano fotografie screpolate, mentre il ricordo più vivo che ho di mio padre sono le sue mani enormi, rosse, sempre spalancate davanti al mio viso a minacciarmi. I miei fratelli non mi sono mai fermata a contarli, erano cinque o cinquanta. Non l'ho mai saputo. Quando sono andata via da casa ho attraversato la strada con gli occhi bassi e il cuore in pace. Nessuno mi ha visto partire, nessuno mi ha abbracciato o mi ha stretto la mano. Dietro l'ultima curva mi sono girata e ho respirato forte. Via da un mondo che non mi apparteneva più. Si ricomincia da zero. Commento. Spesso si attribuiscono molti dei nostri mali alla propria famiglia, al padre, alla madre, ai fratelli. I maestri immateriali spiegano che il nascere in una famiglia anziché in un'altra, con quel padre anziché un altro, con quella madre, con quei fratelli, ha un significato preciso. Quale? Un significato evolutivo. Perché attraverso quella famiglia e attraverso le esperienze che il nascere in quella famiglia comporta, l'individuo si scopre un nuovo essere.